Nicolas Cage merita decisamente il titolo di Cuore d'Oro di Hollywood. L'attore a Venezia con la coprotagonista del suo film Eva Mendes si trovava all'anteprima della proiezione di Cattivo Tenente, quando a luci ormai abbassate una famiglia ha urlato una richiesta di un bacio. Vieni a darmi un bacio perché io non posso muovermi, avrebbe gridato la ragazza diversamente abile. E Nicolas, che si è dimostrato disponibile e generoso con tutti i fans a Venezia, firmando centinaia di autografi e dispensando sorrisi a tutti, non ci ha pensato due volte. Si è alzato, costringendo la sala ad illuminarsi nuovamente e si è recato dalla sua calorosa fan. Una bella storia, quasi da film. Grazie.